Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto presentando è un romanzo per bambini e ragazzi a partire dagli anni 8 di età, una storia natalizia vincente, con personaggi affascinanti, con un tocco di magia natalizia e valori di generosità, amicizia e solidarietà. La trama del libro L'equivoco di Natale, dello scrittore Alessandro Barbaglia, pubblicato dalla casa editrice di Agostini, è la seguente. E.C. ha solo 13 anni, ma è una ragazzina determinata e decisa, tanto da gestire un'attività tutta sua, quella dell'augurificio automatico. Come funziona? Facilissimo, non hai nessuno che ti fa gli auguri a Natale? Non sai cosa scrivere in un biglietto d'auguri o all'amico che non vedi da mesi? Ci pensa l'augurificio. Scegli l'occasione, Natale, Pasqua, Matrimonio, Morte, eccetera. Ti scrivi e nel giorno dedicato il destinatario riceverà i tuoi auguri. Bella figura, sempre assicurata, nessuna seccatura. Sotto Natale il lavoro di C. si intensifica sempre, ma mai quanto quest'anno. Sì, perché a scriverle per la prima volta è Babbo Natale in persona, ha bisogno di lei, del suo immenso magazzino portalettere e della sua macchina per inviare messaggi al mondo intero. Cosa in mente Babbo Natale? Non avrà intenzione di scioperare? E.C. vorrebbe continuare e preoccuparsi dei suoi auguri automatici, ma Babbo Natale sa essere molto convincente. Sembra inoltre che la famiglia di E.C. debba un favore non indifferente al grande capo del Natale per un augurio andato un po' storto inviato centinaia e centinaia di anni fa. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato e se hai voglia di condividere il tuo pensiero, lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura, condividendo questo video ed aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie, iscriviti al canale.